La Lilt è l'unico ente pubblico su base associativa che propone in questo periodo un evento così importante di sensibilizzazione verso quelli che sono i temi appunto della prevenzione. La cultura della prevenzione è l'obiettivo di coloro che operano nella Lilt. Si inserisce nella settimana della prevenzione l'incontro ospitato dal Centro Chirurgico Toscano e organizzato dalla Lilt, Lega Italiana, lotta contro i tumori. La prima lotta ovviamente è la prevenzione serie, prevenzione primaria che vuol dire non ammalarsi. È chiaro che se non ti ammali non c'è bisogno di curarsi ma quella che è conosciuta come prevenzione dalla maggior parte di chi ci ascolta è la prevenzione secondaria, cioè la diagnosi più precoce possibile di un tumore e tutti sanno che se scopri un tumore negli stadi iniziali è molto più semplice curarlo e guarire rispetto a un tumore diagnosticato quando oramai è troppo tardi. Il convegno dal titolo Prevenzione Oncologica, corretti stili di vita, screening e cura ha visto la partecipazione anche della direttrice sanitaria dell'ASL Toscana Sud-Est. Quanto rispondono gli aretini, ma insomma gli italiani in genere, agli appelli sulla prevenzione? Oggi lei ha un fiocco rosa sulla giacca, giustamente. A volte sono un po' anche lettera morta questi inviti. Mentre per la tumore alla mammella abbiamo una grande rispondenza anche alle prime chiamate e poterle eseguire, intervenire in maniera precoce, in maniera anche efficace, abbiamo qualche difficoltà a livello italiano e però poi questo si ripercuote ovviamente a livello regionale, su quelle che sono invece le chiamate e le risposte per la prevenzione del tumore del conorretto. Quindi mi piacerebbe fare un appello alle persone che la prevenzione primaria e secondaria è fondamentale, perché se si riusce a prevenire, a prendere in tempo un tumore, tutto il resto diventa molto più facile oggi per gli operatori sanitari. E per il tumore del colon retto questo è ancora più efficace. Quando l'azienda Toscana Sud-Est, ma anche tutte le aziende in generale sanitarie, fanno gli appelli di chiamate in alleanza, tra l'altro oggi è un esempio con le associazioni che siamo presenti sul territorio, dovete rispondere. Dovete rispondere, venire numerosi e vi prendiamo in carico. Chi si vuole associare alla Lilt o incrociare il vostro cammino, come può fare? Può chiamare, innanzitutto può andare sul sito della Lilt www.lilt.it, andare sulla sezione di Arezzo, la nostra sede è in Corsa Italia 75, c'è sempre una persona che risponde e si possono associare.